mancano i terzini nessun problema il mercato di gennaio serve anche a questo nell'ultimo giorno di contrattazioni il Cagliari è protagonista di un'autentica rivoluzione sulle fasce difensive via il croato Pajac e dentro i nuovi Fabrizio Cacciatore e Luca Pellegrini il primo arriva tanto per cambiare dal Chievo dove era chiuso da De Paoli nel ruolo di terzino destro ed era desideroso di tornare a giocare nel Cagliari si giocherà il posto con il croato Serna che spesso ha bisogno di rifiattare vista l'età l'ex Verona è arrivato con il placet di Rolando Maran ed è stato strappato in extremis al Perugia con cui ormai sembrava fatta a sinistra invece è arrivato Luca Pellegrini in prestito secco dalla Roma per il classe 99 quella rosso blu è una chance da non sbagliare per il nazionale under 21 che tra agosto dicembre 2017 ha subito ben due infortuni al ginocchio sinistro sei mesi di esperienza per mettersi in luce in una piazza importante come Cagliari in un ruolo senza la seria concorrenza di un altro terzino